Continua a far discutere e ad animare il dibattito ad Agrigento il progetto Terravecchia di Girgenti sugli interventi nel centro storico cittadino. Addirittura, come si ricorderà, Calogero Miciche ha anche presentato un dossier denunciando una vera e propria speculazione edilizia. Oggi anche il Partito Democratico Agrigentine, in particolare Domenico Pistone, esprimono perplessità evidenziando che si tratta di dubbi già sollevati nel giugno scorso. Alla luce della recente polemica, dice Pistone, riproporre quelle perplessità e fare alcune considerazioni relativamente al progetto stesso è doveroso. Premesso che il Partito Democratico giudica positivamente gli interventi che prevedono investimenti strutturali nel centro storico, perché ritenuti validi per la rinascita sociale, culturale e civile dell'intera città di Agrigento, nello specifico ribadisce l'esponente del PD, quanto previsto dallo stesso progetto in oggetto mi induce a fare qualche riflessione, poiché il centro storico di Agrigento presenta rischi particolarmente seri nel sottosuolo. La presenza infatti degli ipogei fa sì che il sottosuolo agrigentino sia sottoposto a rischi idrogeologici di una certa rilevanza, che senso A aggiunge andare ad appesantire ancora di più il centro storico con massicci interventi di cementificazione. Pistone sottolinea poi che inizialmente il progetto prevedeva 29 alloggi e successivamente il comune di Agrigento ha previsto altri 10 alloggi, portando così il progetto a 39. Ritengo conclude che la strada giusta sia quella dell'effettivo recupero dell'esistente, unitamente a un percorso integrato, che preveda nel centro storico tutta una serie di interventi volti alla costruzione in quell'area di servizi culturali, aree verdi attrezzate, servizi scolastici universitari, presidi sociosanitari, servizi volti alla socializzazione. Solo così Terra Vecchia rinascerà nell'interesse di tutti.